Ok, molto bene. Allora, arrivati a questo punto, scusate il cappello. Ho intenzione, sapete cosa? Di percorrere tutta la Galleria del Montale a raso terra. E se volete vedere, siccome non è che voglio rompervi le scatole, scegliete voi cosa volete vedere. Volete vedere l'andata? Cliccate qui a destra, scusate. No? Volete vedere invece il ritorno? Cliccate a sinistra. Non volete vedere niente? Non cliccate niente. Ah sì, se volete vedere invece l'attacco montale, il famoso attacco montale che fu praticamente l'attacco da dove cominciarono tutti i lavori, cliccate qui sotto. Altrimenti, niente. Scegliete voi cosa dovete fare. Qui, qui, qui. Scegliete, dai, scegliete. E cliccate. Oh, cliccate. Fai che qui il video finisce. Se voi non cliccate dopo il video finisce. Dopo andate avanti al prossimo video. Oli, fate i vobis. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti.